Questa catenaria ha tutto un controllo idraulico ai cingoli e anche a motorizzato, quindi fatica zero. Primo consiglio utile, utilizziamo una corda per darci una traccia dove dobbiamo andare a lavorare. La catenaria si utilizza sempre al contrario, quindi andando indietro. Aziono la lama. Il momento dove affonda è il momento più decisivo, viene chiesto un attimino più di sforzo. Si va piano piano, non pensate di fare un lavoro veloce. Di sicuro vedrai che sono andato leggermente storto, può essere che nell'andare a scavare abbia incontrato qualche difficoltà, qualche sasso. Ma avendo comunque il minimo di gioco, dopo quando andremo a tracciare la nostra traccia con l'impianto di irrigazione andremo a correggere il tubo come meglio crediamo.